La famiglia del pomodoro di Pachino IGP si allarga. Oltre alle varianti cileggino, costoluto e tondo liscio, il marchio di indicazione geografica protetta è stato riconosciuto anche alle tipologie di plume e mini plume, comunemente note come datterino. La notizia rappresenta il frutto di un lungo lavoro da parte del team del consorzio di tutela IGP pomodoro di Pachino, come spiega il suo presidente Sebastiano Fortunato. Da anni lavoriamo su questa tipologia di pomodoro che ha un grande apprezzamento da parte del mercato. Questa misura ci permetterà di valorizzarlo rispetto a pomodori di altra provenienza. Per la produzione rappresenterà ancora un valore aggiunto che contribuirà ad aumentare il reddito di chi lo produce. Con il riconoscimento del pomodoro datterino tra le specie di pomodoro che godono della certificazione IGP, il brand pomodoro di Pachino acquista ulteriore forza e importanza su mercati europei e mondiali. Lo dichiara Michela Giuffrida, membro della Commissione per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo. Sono così cinque le varietà che rientrano nel marchio di qualità IGP Pachino, la cui domanda cresce sui mercati europei ed esteri. Prodotti che abbiamo il dovere di promuovere e proteggere per la crescita di un comparto, quello ortofrutticolo, che nell'area di Pachino dà lavoro a 5.000 persone, fattura 80 milioni di euro e coinvolge più di 100 aziende. E sono numeri che, grazie alle certificazioni europee, sottolinea ancora l'eurodeputato, sono destinati a crescere. È stato un anno molto complicato per l'agricoltura, prosegue, e soprattutto per i produttori siciliani, che devono fare i conti con le importazioni di pomodori dal Marocco. La decisione della Commissione Europea a sostegno di un prodotto di eccellenza della nostra regione ha un valore enorme, perché le certificazioni di qualità IGP, DOP e BIO sono gli strumenti più potenti ed efficaci che abbiamo a disposizione per la lotta alla contraffazione e alla concorrenza sleale dei prodotti che arrivano dai paesi terzi.